Le condizioni termiche nelle strutture aziendali e ospedaliere della Aslo 1 sono inaccettabili. La denuncia del segretario generale dell'FP CGL della provincia dell'Aquila, Anthony Pasqualone, utenza e personale, sono in condizioni inaccettabili e questo si riversa sulle prestazioni. In inverno erano state segnalate le condizioni rigide nei luoghi di lavoro, con temperature inferiore ai 15 gradi. Ora ci sono temperature, soprattutto nell'area Peligna, che raggiungono i 44 gradi. Pasqualone si riferisce nello specifico alla palazzina dei Kellis e al nosocomio di Sulmona, ma ci sono situazioni simili in tutta la provincia. Alcuni poi, dice, possono usare i condizionatori e altri no. Il sistema aziendale, insomma, non funziona, con disagi per personale e utenza, che deve accedere a prestazioni di diversa natura e ci sono anche i fragili. Il personale poi è in affanno e sottodimensionato. La CGL quindi chiede un intervento deciso alla Asla per risolvere la situazione, ma che sia immediato e scritto pure all'ispettorato del lavoro. Noi sostanzialmente chiediamo alla Asla un intervento urgente per ripristinare condizioni adeguate nei luoghi di lavoro, in ogni luogo di lavoro. Abbiamo già fatto segnalazione all'ispettorato del lavoro quest'inverno, la Asla ha relazionato su problematiche del freddo soltanto una settimana fa. Chiaramente ci auguriamo che i tempi non siano gli stessi per rispondere alle criticità del momento, che invece sono l'esatto contrario, quindi temperature elevatissime nei posti di lavoro, che mettono in difficoltà i lavoratori, ma anche l'utenza, chiaramente fragile, che si reca in un posto per ricevere cure e che invece è costretta a subire temperature che in alcuni posti di lavoro raggiungono i 44 gradi, condizioni inaccettabili, per cui chiediamo un intervento immediato alla Asla per ripristinare delle condizioni insomma umane di lavoro e di servizio all'utenza. L'ispettorato del lavoro è stato interessato, chiaramente farà la sua parte, altrimenti andremo avanti per rivendicare il giusto, i diritti dei lavoratori e chiaramente dell'utenza che si rivolge ai servizi sanitari. Grazie 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 Grazie